ve lo confesso ho dormito poco stanotte perché ho visto tante partite di una serata fantastica in champions league ho visto le due delle italiane ovviamente la vittoria della juventus la vittoria dell'atalanta ho visto un real madrid paris saint germain che è stato forse la partita più bella che ho visto in questo avvio di stagione sicuramente una delle migliori perché è stata una partita di una qualità impressionante di una velocità incredibile con figure straordinarie e con un risultato che ci dice parecchie cose poi ho visto anche la partita del tottenham perché volevo valutare anche in campo internazionale il ritorno dello special one e direi che di indicazioni da tutti i campi ce ne sono arrivate inizio ovviamente con quanto è successo allo stadium con la vittoria della juventus un'altra vittoria perentoria un altro risultato pesante in questo avvio dell'era sarri perché la juventus battendo i colcioneros ha la aritmetica certezza del primo posto in champions league con una giornata di anticipo tra l'altro poteva essere una partita con qualche stimolo in meno perché comunque la sicurezza della qualificazione era già stata ottenuta con la vittoria sulla locomotive mosca e invece ho visto una juventus focalizzata una juventus che si è andata a prendere il primo posto che è sempre una cosa importante perché è vero che il lotto delle seconde contagiare al madrid e tottenham può spaventare però arrivare primi nel girone un girone come vi ho sempre detto tutt'altro che elementare avere la possibilità di giocare il ritorno degli ottavi in casa è una cosa importante oltretutto vincere abitua a vincere di conseguenza essere davanti è sempre meglio rispetto ad essere dietro e direi che la juventus ha dato un'altra dimostrazione perché è vero che è calata un po' nel finale forse anche per le scorie della partita molto dispendiosa giocata sabato in campionato a bergamo è vero che ha rischiato qualcosa quella palla sbucciata da morata 30 secondi dalla fine a porta libera anche se secondo me c'era fuori gioco dell'ex attaccante della juventus le occasioni che un atletico ancora una volta non molto bello si è comunque riuscito a creare sono state però sventate da un giocatore determinante in questa partita così come nell'ultima un giocatore che sta finalmente trovando il modo di zittire le critiche e di dimostrare di valere gli sforzi fatti sto parlando ovviamente di matteis de ligt altra prestazione monumentale del difensore olandese e anche questo in qualche modo ve l'avevo detto bisognava dare un po di tempo a de ligt di ambientarsi in italia di conoscere i nuovi compagni di entrare in quello che è il profondo sistema difensivo di maurizio sarri e poi de ligt avrebbe dimostrato quello che sta succedendo de ligt è indubbiamente un ottimo colpo per la juventus e uno dei migliori difensori giovani emergenti de ligt è stato un protagonista della partita il protagonista ancora una volta è stato lui è stato la coscia è stato paolo di bala giocatore che sta incantando in ogni passaggio della sua stagione in ogni cosa che fa in ogni sua giocata strabiliante in ogni gol che segna perché dopo la serpentina con tiro chiuso sul primo palo che ha sancito il 3 a 1 a bergamo ha tirato fuori dal cilindro un colpo da maestro che gol ha fatto di bala segnare una punizione con angolo così chiuso da quella distanza con un sinistro così violento a un portiere così forte come janno black è qualcosa da grandissimi campioni perché è vero che black magari si incassa un po troppo all'interno della porta ma riapprezzate veramente la brutalità del colpo di di bala è una frustata fortissima che finisce in porta in un flash in un attimo accecante di qualità di meraviglia e io credo che anche il miglior black anche il miglior portiere del mondo al suo best come dicono in inghilterra avrebbe fatto fatica a respingere questa folgore scagliata dal mancino dell'argentino di bala sta dando delle dimostrazioni molto molto importanti di bala come vi ho detto più volte quest'estate ha operato una maturazione determinante perché si è ribellato in qualche modo alla sua condizione ha rifiutato le destinazioni che erano previste per lui dalla società non ha voluto sapere di muoversi non so se sia stato un discorso di attaccamento alla juventus io credo che sia stato un qualcosa di molto personale la voglia di accettare e di vincere le sfide dopo due stagioni di malinconia per l'ombra di cristiano ronaldo per tante cose che non avevano funzionato di bala ha deciso di diventare davvero uno dei crack più forti che ci siano al mondo di diventare veramente un super campione di bala non è mai stato così bene in carriera fisicamente magari sì mentalmente sicuramente no è un giocatore sicuro è un giocatore che accetta di entrare dalla panchina che gioca titolare che determina sempre e tutto questo si riflette nel ottimo momento nell'ottima attualità di tutta la juventus è vero che questa squadra deve trovare il modo di aumentare l'intensità di essere più continua più dominante più forte all'interno di tutta la partita perché poi quando le partite saranno veramente pesanti l'intensità sarà fondamentale e questa è una cosa che sarri sa bene però sarri in questi primi mesi di gestione è stato straordinario nel adattarsi al materiale che si è trovato in mano un materiale sicuramente di altissima qualità ma anche un materiale con delle caratteristiche specifiche era impossibile pensare e anche questa cosa ve l'ho detta più volte la confermo che sarri replicasse il suo gioco turbinante in stile napoli anche con la juventus è una società diversa è una squadra diversa ci sono giocatori diversi sarri ha trovato il modo di far giocare il meglio possibile la sua juventus e io continuo a vedere degli stacchinetti rispetto alla scorsa stagione ora ci sono delle cose da migliorare però le rotazioni stanno funzionando perché tutti sono contenti o meglio quasi tutti un caso ceve ne parlo fra pochissimo e globalmente la squadra cresce così come crescono le sue individualità un nome quello di bentancur l'uruguagio ha giocato una partita di grande classe contro l'atletico madrid e io rimango convinto del fatto che diventerà un giocatore molto importante vi dicevo sono tutti contenti sono tutti sereni tutti tranne uno ed è uno abbastanza pesante ovvero cristiano ronaldo non so se si è arrabbiato cristiano ronaldo sicuramente sta attraversando un momento particolare perché cristiano ronaldo non è al top della forma lasciate perdere i gol che ha fatto il nazionale il calcio delle nazionali ha una dimensione diversa rispetto al calcio di club ronaldo non sta bene non riesce ad essere il vero ronaldo in questa fase della stagione avete l'immagine di quel contropiede al sessantesimo in cui parte da solo verso la porta e viene rimontato nel giro di 20 metri da un paio di difensori questa è l'immagine del ronaldo di oggi attenzione del ronaldo di oggi e nella prima parte di stagione anche nelle scorse annate non è stato un ronaldo perfetto e dominante per cui io sono molto lontano dal concetto di ronaldo è arrivato al momento del declino vediamo è la prima parte di stagione poi lo giudichiamo nella seconda parte quando il re cristiano si mette veramente sul suo cavallo e vince le partite ad oggi però cristiano ronaldo non vale quello che stanno portando di bala e guain in questo momento detto ciò io non credo che si possa prescindere da cristiano ronaldo quando lui c'è quando decide di esserci gioca è in qualche modo una figura che catalizza sempre delle attenzioni anche da parte degli avversari e ripeto sarri sta gestendo tutto questo nel modo migliore possibile modo migliore possibile di regalare una grande serata l'ha trovato anche l'atalanta con la sua prima storica vittoria in champions league una vittoria che lascia degli orizzonti lascia delle incredibili prospettive perché l'atalanta numericamente ancora la possibilità di qualificarsi agli ottavi e sarebbe un qualcosa di epocale primo perché non è mai successo nella storia della champions che una squadra dopo tre sconfitte nelle prime tre partite del girone sia riuscito a passarlo secondo perché sarebbe un continuare un sogno veramente incredibile però l'atalanta questo sogno ce l'ha davvero perché è riuscita a vincere contro la dinamo zagabria 2 a 0 un risultato strettissimo per quello che abbiamo visto l'atalanta ha sprecato un sacco di occasioni a un certo punto gasperini era anche molto contrariato molto preoccupato perché vedeva la beffa e quella traversa presa dalla dinamo sul punteggio di 1 a 0 poteva esserlo però l'atalanta ha strameritato di ottenere questo successo prima con il rigore di muriel e poi con un super 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 gol del papu gomez che gol ha fatto anche il papu giocatore di classe mondiale giocatore anche di grande leadership perché è chiaramente il capitano la guida di questa atalanta in campo ma anche a livello temperamentale lo aveva detto prima della partita qualcuno nel mondo della dea in queste serate il papu gomez ha qualcosa in più fa qualcosa in più direi che ha fatto più di un qualcosa in più giocatore fantastico tutte le volte che vedo giocare il papu gomez rimango incollato su di lui perché è uno di quei leader tecnici ripeto anche carismatici che sembrano muoversi con una sorta di occhio di bue addosso sul campo da calcio è meritato per l'atalanta questo successo è meritato per il papu gomez questa copertina e adesso vediamo cosa si meriterà l'ultima giornata perché ripeto l'atalanta deve vincere la sua partita poi che si riesca a qualificare al secondo posto sarebbe una cosa incredibile che riesca a continuare in europa scendendo in europa league sarebbe una cosa molto importante o che vada fuori l'atalanta da questa esperienza ha preso chiaramente degli insegnamenti importanti che ha già metabolizzato e si vede da come è migliorata all'interno del suo cammino europeo tutto questo fa bene al club ma fa bene al calcio italiano in generale parlando di cose che fanno bene vi parlo di altre partite che ho visto nella serata di ieri e inizio come detto sicuramente da quella del bernabeo un super show calcistico velocità massima gol figure giocate di qualità quasi impensabile due a due fra real madrid e pari san germain e anche questo è un risultato importante perché il real madrid ha certificato la sua messa in moto il suo ritorno davvero su livelli significativi importanti ma il pari san germain non ha perso in una serata in cui perdere sarebbe stato molto facile ha blindato il primo posto nel girone e ci ha dato un'altra dimostrazione di come quest'anno il page sia veramente forte sotto tutti i punti di vista parto però dal real perché il real ha giocato un primo tempo clamoroso forse anche 60 minuti real madrid bello continuo ficcante armonico deciso sia ispirato che anche pesante fisicamente il real madrid verrebbe da dire il real madrid che non vedevamo più da diverso tempo è sempre il real di benzemà ne ha fatti altri due karim nel 2019 più di benzemà hanno segnato in europa solo messi e lewandowski e tenete presente che benzemà tira pochi rigori non gioca con la nazionale è il 9 del real madrid il 9 totale un 9 di stoccata e di partecipazione per me uno dei migliori giocatori che ci siano al mondo e direi che tutte le volte che scende in campo lo dimostra karim benzemà c'è da capire cosa si è fatto azar si è scavigliato perché sta crescendo molto e guarda caso l'imposizione di azar coincide con la crescita di livello di tutto il real madrid un real madrid che vinceva 2 a 0 che si era praticamente portato a casa la vittoria l'avrebbe meritata però di fronte c'è il pari saint germain e il pari saint germain ha un serbatoio di risorse con pochissimi uguali al mondo soprattutto davanti infatti con le mosse dalla panchina tuchel l'ha recuperata anche perché il pari saint germain non ha mai smesso di giocare un calcio estremamente offensivo ed estremamente veloce addirittura nell'intervallo quando era sotto 2 a 0 tuchel ha tolto gayet e ha messo neymar giocando con neymar mbappé icardi e di maria sostenuti da marchignos alzato in mezzo al campo e da verratti una squadra iper offensiva poi è entrato anche sarabia che ha segnato il gol del 2 a 2 se voi pensate che il pari saint germain si è presentato al bernabeu con in panchina neymar e sarabia due giocatori che sarebbero titolari in qualsiasi altra squadra d'europa avete la dimensione di quanto sia il potenziale disposizione di tuchel ma questo 2 a 2 il fatto che il pg non abbia voluto perdere questa partita e sia riuscito a non farlo da anche la dimensione di una squadra focalizzata mentalmente io continuo a dirlo aspettiamo i momenti in cui davvero si peseranno le corazzate d'europa ma io sono convinto che il pari saint germain abbia delle chance per far diventare questo davvero l'anno buono così come sono abbastanza convinto che delle chance forti ce le abbia anche il bayern monaco un bayern monaco che dopo il cambio di allenatore si è messo a rullare e se il bayern monaco con questo tipo di rosa e questo tipo di giocatori non si mette ad andare dietro alle paturnie contro un allenatore contro questo contro quell'altro che hanno segnato risultati sicuramente piuttosto modesti a livello internazionale negli ultimi anni il bayern monaco ha un potenziale veramente detonante perché ha tanti giocatori forti davanti e perché al centravanti numero uno al mondo robert lewandowski ha segnato quattro gol in 13 minuti contro la stella rossa di belgrado ha fatto un'altra grande impresa i gol di lewandowski in questa stagione sono 26 con la maglia del bayern 16 in bundesliga e 10 in champions league centravanti senza uguali al momento sul pianeta centravanti che fa gol in tutti i modi centravanti che si porta a casa al pallone in praticamente tutti i campi in cui va a giocare meraviglioso robert lewandowski ma ripeto è una squadra che ha la possibilità di fare un calcio molto bello e un calcio molto vincente pari san germain e bayern monaco per me sono le outsider vere per la conquista della champions league anche se alla fine di novembre si possono fare solo discorsi leziosi poi le partite vere arrivano un po più avanti chi è arrivato invece in questo momento e riporta sicuramente del peso è una figura molto importante anche in champions league è josé maurigno josé maurigno che è tornato vincendo sia in campionato 3 a 2 in casa del west ham che in champions 4 a 2 in rimonta in casa propria contro l'olimpiacos non era mai successo nella sua carriera che rimontasse una partita da 0 a 2 la vincesse in champions league è un maurigno che mi sembra abbastanza nuovo che fa giocare la sua squadra in modo estremamente offensivo infatti ha segnato sette gol in due partite ne ha anche presi quattro cioè è qualcosa che abbastanza cambiato ma d'altra parte lo aveva detto josé maurigno sono rimasto fermo ho imparato e ho pensato delle cose diverse lo stiamo vedendo quello che non cambia in lui è il decisionismo fa un cambio anche a metà del primo tempo se le cose non vanno bene però anche questa sua immagine un po più simpatica un po più umana alla braccia con il raccattapalle sulla giocata veloce che ha portato alla rimessa laterale del gol del 2 a 2 sono i soliti mind games di murigno credo che siano i soliti calcoli credo che siano le solite immagini proposte volontariamente ma quello che si sta vedendo sul ritorno dello special one o the humble one l'umile come stanno dicendo adesso in inghilterra per la sua nuova immagine ci dà veramente la possibilità di avere un protagonista meraviglioso ritrovato in champions league è stata una serata spettacolare di champions è quella che ci attende con liverpool napoli con barcellona borussia dortmund e con valencia celsi bellissimo antipasto alle ore 7 è un'altra super serata di champions per cui ne parliamo domani napoli con barcellona